Prova, prova. Signore e signori, un attimo di attenzione, prego. Benvenuti alla Festa del Sorriso, la prima edizione a Maiori nella piromanziarea. Zona Porto. Ringrazio vivamente Alfonso Pastore per le bevande del buffet e la disponibilità della tendostruttura. Ringrazio... Grazie, grazie, grazie Alfonso, grazie. Ringrazio Peppe Capone per il service, i microfoni, i luci e... Grazie, bravo, grazie Peppe, grazie. Ringrazio il primo volontario che mi porta una sedia sul palco. Grazie, grazie, grazie. Possiamo cominciare. Il nostro primo artista, di cui non conosco il cognome, ma il nome lo conosco, si chiama Giancarlo. Come ti chiami? Giancarlo De Luca. Giancarlo De Luca. Viene da... Vietri sul mare. Vietri sul mare. A questo punto io ascolterei Giancarlo De Luca. che si esibisce per tutti noi con un pezzo di musica classica napoletana che si intitola... Carmelo. Carmelo. Applauso per Giancarlo De Luca. Ciao 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 Giancarlo De Luca.